Sotto il profilo degli investimenti è un momento di riflessione. La partenza della transizione 5.0 è stata una falsa partenza, quindi le imprese non hanno ancora iniziato a investire sfruttando le provvidenze previste dalla transizione 5.0. Quindi il leasing riflette lo stato degli investimenti. Quando le imprese investono il leasing va bene, come va bene anche i finanziamenti bancari a medio e lungo termine, quando gli investimenti ristagnano, ristagna anche il leasing e questo è il periodo che stiamo vivendo. C'è anche un altro aspetto molto importante, il salone del leasing cade in un periodo di sfide epocali per il leasing, sfide epocali che derivano da nuove regolamentazioni, derivano da riforme fiscali, da riforme contabili, derivano dalla realizzazione del PNRR e quindi stiamo vivendo veramente sfide epocali. L'auspicio che mi formulo è molto semplice, che il leasing riesca a superare queste sfide come pare avviato a superarle e che le disposizioni della transizione 5.0 possano essere semplificate in maniera da tranquillizzare il ceto produttivo. Le imprese quando si muovono all'interno della semplicità e della semplificazione si sentono più sicure e quindi il mio auspicio è, ripeto, che il leasing riesca a superare queste sfide epocali e la transizione 5.0 possa dare un contributo a questo.